Allora come appena visto c'è un complotto interno contro Griffith che comunque viene visto malamente dalla nobiltà soprattutto dallo zio della della principessa e fratello del re perché si vede vede in pericolo la sua futura posizione nobiliare cioè come passaggio al re delle midland quindi vede Griffith come un ostacolo perciò cerca di eliminarlo non riuscendoci questo giro usiamo judo così li abbiamo usati tutti della banda ai falchi quelli giocabili giocabili Chiudo ancora più Agile di Kashka E' proprio l'assassino veloce scaltro Da ricognizione Contiamo subito gli obiettivi così almeno non stiamo a perdere troppo tempo in giro Ok, tutto catturato Ah no, l'avevo nemmeno finito questo Adesso si Avanziamo dentro il castello Non si scappi Non si scappi Non si scappi Non si scappi Multiple In modo tale è comunque da compensare il fatto che faccia soltanto danni a singolo target praticamente Nooo, non ci ho fatto un tempo, parliamo sempre Ok Ok Chcello Ok, troviamo il castello che c'è un nome qui. Ok, troviamo il castello. Ok, è una missione compiuta, procediamo al prossimo obiettivo. Noi, noi, scatta, scatta, scatta. Noi, scatta, 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 scatta. Noi, scatta, 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 scatta. Noi, scatta, 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 scatta. Ok, come si è successo. Chi è morto? Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.